seconda serie dello stile libero al femminile passeremo poi alla gara dei 50 d'orso sempre prima maschi poi femmine effettuata la virata ai 25 metri quindi siamo già nella vasca di ritorno vediamo chi si aggiudica con quale tempo questa seconda serie Matilde Modolo lassù in corsia 1 26 e 72 va